Il Teramo torna al successo esterno in campionato dopo quattro mesi. Il 1-0 firmato da Caidi con cui aveva rotto il ghiaccio a Monza risale il 21 ottobre 2018. Protagonista assoluto del 3-1 del Benelli contro il Ravenna, Saveriano Infantino, autore di una clamorosa tripletta e la quinta rete in maglia bianco-rossa dell'attaccante in sei partite. Grazie ai tre punti incassati il Teramo ora torna a respirare aria di salvezza diretta. Grande partita di tutta la squadra che ha rischiato davvero poco contro un avversario più quotato. Diavolo sicuramente favorito da un'espulsione in avvio di ripresa di Bresciani per una brutta entrata su Giorgi uscito dal campo claudicante ma l'inerzia del match dava l'impressione che contro il Teramo visto a Ravenna c'era ben poco da fare. Padroni di casa senza esposito e malè, dall'altra parte centrocampo inedito del Teramo un po' per necessità, Proietti è squalificato, armeno infortunato ma anche per scelta tecnica di Maurizzi che manda in panchina Perse e De Grazia inserendo Spighi e Spinozzi, quest'ultimo al suo esordio dal primo minuto. Le fasi salienti del match inizia bene, la squadra di Maurizzi, quarto minuto, primo tiro in porta con vento, l'Aventuri blocca a terra. Settimo ancora Teramo in avanti con un traversone di Spighi, colpo di testa di Infantino al lato di Poco. Il Ravenna si vede al ventiduesimo con un colpo di testa di Nocciolini, Gomis para senza difficoltà. Quindi fase di studio ma al quarantunesimo arriva il vantaggio del Teramo. È una magia dalla media distanza di Infantino, la palla si insacca nell'angolino alto dove Venturi non può proprio arrivare. Ravenna è un po' sturdito, la squadra allenata dall'ex Foschis tenta a riorganizzarsi ed è anzi bravo Venturi nel finale di tempo a sventare il raddoppio su punizione di Celli. Ripresa Ravenna con due innesti, entrano Eleuteri e Siano per Boccaccini e Trovate. Al sesto l'episodio dell'espulsione brutta e pericolosa, l'entrata al centrocampo di Bresciani su Giorgi. L'arbitro, fiero di Pistoia, estrae il cartellino giallo. Poi però forse ripensando alla rudezza del gesto e anche all'entità del fallo commesso, tira fuori il rosso correggendo la decisione precedente. Giorgi, che è ancora a terra, tra l'altro sarà costretto ad uscire Claudicante al suo posto e entrerà a Persia. Passano cinque minuti, il Teramo colpisce di nuovo, assist al bacio di Sparacello per Infantino che gonfia di nuovo la rete. Potrebbe essere il colpo del K.O., ma il Teramo non si fida. Troppe volte la squadra di Maurizzi si è fatta recuperare, così attacca ancora. E al diciannovesimo arriva il Tris, ancora con Infantino, che tocca sotto misura una traversone dalla sinistra. È l'apoteosi per il giocatore e per il Teramo che vede concretizzarsi il secondo successo esterno stagionale. La squadra di Maurizzi potrebbe segnare ancora, prima con Celli e poi con De Grazia. Con la forza dei nervi il Ravenna prima impegna Gomis e a sette dal termine accorcia con un'incornata di Raffini appena entrato. e dopo quattro minuti di recupero al Benelli il Teramo batte il Ravenna per 3-1. Mercoledì Diavolo di nuovo in campo per la Coppa Italia in casa della Viterbese, mentre domenica tornerà il campionato con la sfida interna contro la Fermana.